Una partita che sembrava favorevole sulla carta al Baveno e che si era messa subito in discesa rischia di trasformarsi in una Waterloo per i bianco-blu di Pissardo, fermati sull'1-1 casalingo dal Lucento. Lo 0-0 resiste appena 5 minuti, il tempo necessario al Baveno di conquistare un calcio di punizione pochi metri fuori l'area di rigore e a Fabio Cabrini di disegnare una parabola che scavalca la barriera e si infila nell'angolino. Il Baveno rischia però di farsi male da solo già al settimo ma Faniguglio alza troppo la mira da buona posizione. Al sedicesimo taglio di Luca Cabrini per l'inserimento del fratello Fabio che calcia a lato. Clamorosa l'occasione fallita da Ado al diciannovesimo. Lanciato da Manfroni sorprende la difesa giallo-blu e solo davanti al portiere calcia sul fondo. Break del Lucento al ventiseiesimo con Lepera che con un diagonale impegna Chiodi. Non succede più nulla fino al trentaseiesimo della ripresa quando il Lucento pareggia sfruttando un calcio di punizione a due in area che assomiglia molto ad un calcio di rigore. Chiodi, secondo il direttore di gara, raccoglie palla con le mani dopo averla già presa in mano e fischia calcio di punizione pochi metri fuori dal limite dell'area piccola. Tutto il Baveno si schiera sulla linea di porta ma nulla può sulla battuta di Chiatellino. Il finale rischia di diventare drammatico per la formazione di casa che al trentanovesimo rimane in dieci per l'espulsione di Stanglini per presunto fallo di reazione. Due minuti dopo secondo giallo per Guida e Baveno addirittura in nove con Pierguido Pissardo allontanato anche lui dal terreno di gioco. Baveno che al quarantaseiesimo rischia la clamorosa beffa. Feolazzo servito da Lepera calcia fuori da due passi.